Partono oggi in città una serie di iniziative che porteranno turisti e visitatori a godere delle bellezze di Bitonto. Si comincia oggi con Ciocofan, l'Expo del Cioccolato, che porterà in Piazza Aldomoro, nel centro cittadino, fino al 24 novembre, diversi stand per assaporare diversi prodotti dedicati proprio al cibo degli dei. Spazio anche ai più piccini con il Teatro di Burattini e alla solidarietà con le associazioni di volontariato del territorio che si metteranno a disposizione dei visitatori con laboratori di pittura e la creazione di piccoli oggetti a base di cioccolato. Nel weekend invece torna la seconda edizione di Monumenti Aperti in Puglia che quest'anno, grazie alla collaborazione del GAL Fior d'Olivi, toccherà anche le città di Giovinazzo, Modugno e Terlizzi, accomunate dalla produzione olearia tra tradizione e modernità. La manifestazione promossa dall'associazione I Mago Mundi mira non soltanto ad ampliare le sinergie tra le città, ma soprattutto a valorizzare la promozione del territorio, coinvolgendo scuole ed associazioni turistiche, al fine di integrare i diversi luoghi della cultura a vantaggio della conoscenza dei nostri beni culturali. Bitonto sarà presente con 20 monumenti aperti in maniera straordinaria su ben 7 diversi itinerari che avranno, a far da ciceroni, i piccoli studenti di diversi istituti scolastici. L'apertura è prevista per sabato 23 novembre alle 16 e per domenica 24 novembre dalle 9.30 alle 13. Apertura straordinaria anche per il Museo Diocesano che aprirà in via eccezionale le sue porte domenica sera dalle 18 alle 21. Si potrà vedere tra paramenti risacri, tele, opere e sculture, anche una tela raffigurante Santa Caterina appena rientrata dalla fase di restauro.